Ciao a tutti, vi ricordo che venerdì 25 giugno alle ore 20 presso lo stadio Carlo Chiesa disputeremo un triangolare a scopo benefico. La nostra squadra, il Dolce Vita Wellness Club, affronterà il Sant'Angelo Calcio e la Nazionale Hip Hop. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione dei Genitori dei Bambini Disabili. Spero di vedervi numerosi perché più siamo e più riusciamo ad aiutare questi bambini. Vi aspettiamo venerdì 25 giugno. Ciao! Grazie per la visione!